Via di interventi di igiene urbana in via Circunvalazione e via Cavallerizia a Torre del Greco, per il recupero di sversamenti illeciti e rifiuti speciali e non a cure della Butol. Una bonifica annunciata di recente dall'amministrazione comunale per far fronte al degrado della zona ridotta ad una vera e propria discarica a cielo aperto. A tal fine istituito con apposita ordinanza a firma del dirigente Salvatore Visone il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata, un dispositivo di viabilità temporaneo che arriva a seguito della nota da parte del sesto settore Ambiente ed Ecologia del Comune. Si tratta di interventi che necessitano per il corretto sorgimento di interdire la sosta nelle aree interessate. In particolare nell'area mercatale, piazzale ed aree di sosta di via Circunvalazione è previsto divieto di sosta con rimozione forzata lunedì 15 dalle 7 alle 13 e in via Cavallerizia in corrispondenza dell'istituto comprensivo Soro Morelli fino al civico 47 divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata martedì 16 e giovedì 18 dalle 7 alle 18.